Sono Francesco Crocco in arte poldo, faccio il mestiere del pasticcere da più di 30 anni e ho pensato in occasione della finalissima degli europei dedicare un dolce, una torta molto particolare a questa finalissima. È una torta di un pan di spagna alle mandorle con due farciture che rappresentano le due nazioni. Per l'Italia ho pensato alla farcitura più classica che si conosce in tutto il mondo che è il tiramisù, mentre per la nazionale inglese ho preferito andare su una classicissima crema inglese. Tutto questo ricoperto di pan di spagna che rappresenta il manto erboso e le due bandiere che rappresentano queste due spettacolari squadre. L'idea l'ho pensata nella notte che il nostro CT festeggiava con tutti gli altri giocatori e mi sembrava giusto, essendo anche di fede bruciarchiata, pensare a qualcosa per lui e mi è venuto in mente questo dolce. Il mio messaggio che rivolgo al nostro mancio è quello di un grosso in bocca al lupo a lui e a tutta la squadra perché meritano tante soddisfazioni anche nei prossimi anni. Ho avuto la fortuna di essere il primo capitano di Enrico Chiesa, il papà di Federico, e quindi un'emozione in più vedere il figlio fare le prestazioni che ha fatto in questi europei e soprattutto l'ultimo gol che è stato veramente un gol all'Enrico Chiesa. In bocca al lupo a tutti i giocatori, tutto lo staff, ci metto anche gli chef essendo miei colleghi e quindi forza Italia sempre. Grazie a tutti.